I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP e il Tribunale di Palermo su richiesta dello locale Procure della Repubblica nei confronti di due soggetti destinatari della misura interdittiva del divieto dell'esercizio di attività professionale per due anni, procedendo contestualmente al sequestro preventivo del complesso aziendale di un istituto scolastico paritario. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini condotte dagli specialisti e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Palermo Gruppo Tutela Mercato Capitali, attraverso accurate accertamenti contabili, documentali e finanziari consentono di ipotizzare l'esistenza di una strutturata pianificazione distrattiva che sarebbe stata attuata attraverso il trasferimento fraudolento dell'attività d'impresa a favore di una società neocostituita grazie ad uno strumentale contratto di gestione di ramo d'azienda per un importo nettamente inferiore rispetto al reale valore di mercato al fine di consentire la prosecuzione dell'attività scolastica senza soluzione di continuità, lasciando la precedente società poi fallita in grave stato di Isis Sesto avendo accumulato un'esposizione debitoria allo stato quantificato in oltre 1,7 milioni di euro. L'omessa indicazione nei bilanci societari delle poste indicative della reale situazione debitoria dell'impresa al fine di celarne lo stato di default. I reati allo stato contestati agli indagati nella loro veste di amministratore di fatto e di diritto delle società coinvolte sono bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali. Il complesso aziendale sequestrato è stato affidato ad un amministratore giudiziario nominato al Tribunale con il compito di garantire la continuità dell'attività scolastica e mantenere i livelli occupazionali per preservare i diritti dei lavoratori e della stessa utenza nel caso specifico rappresentata dagli studenti.